Ciao e benvenuti su Fisio Social. Oggi parliamo di postura delle spalle e della parte alta del corpo e soprattutto la cosa sulla quale mi voglio concentrare e darti un po' un'infarinatura sul miglioramento posturale da un punto di vista scientifico è un errore da evitare, ok? Prima di andare oltre ti invito a guardare il link che trovi nel primo commento perché abbiamo appena rilasciato la guida gratuita del nostro videocorso postura spalle passo dopo passo. In questa guida gratuita troverai degli approfondimenti teorici delle strategie, dei consigli su come migliorare la postura e troverai anche delle lezioni di prova dal punto di vista pratico, quindi esercizi da fare e routine da seguire passo a passo per vedere appunto se ti ci trovi con il nostro metodo e soprattutto se il corso completo di postura spalle passo dopo passo può aiutarti a migliorare la tua postura e a stare meglio. Partiamo con questo errore. L'errore qua scritto stai dritto perché è quello che ci hanno sempre detto a tutti, no? Anche a scuola stai su dritto e l'idea è questa che se tu ti impegni a stare su dritto automaticamente migliori la tua postura. Bene, questo è un errore. È un errore perché di per sé dal punto di vista scientifico non esiste una postura ideale, non esiste una postura perfetta di conseguenza la postura dritti con le spalle indietro non è una postura ideale, non è quello a cui dobbiamo ambire, ok? Ma perché questo? Perché quello a cui dobbiamo ambire è lo stare bene con diverse posture in diversi momenti della giornata perché se io ti dicessi che la postura di stare dritti è la postura migliore e di conseguenza tu cerchi sempre di stare dritto, in un momento in cui devi avere un'altra postura allora significa che tu stai mantenendo una postura errata, una postura sbagliata, ok? E questo come concetto è totalmente sbagliato perché la postura è la posizione che noi manteniamo in un dato momento. Quindi io adesso in questo momento ho questa postura, tra poco avrò questa postura perché scriverò in basso, quando sono sulla scrivania per un quarto d'ora rimango da una parte per un quarto d'ora dall'altra perché non esiste una singola postura ideale, non smetterò mai di dire questa cosa qua, la postura perfetta non esiste, la postura migliore e la prossima ovvero la cosa migliore da fare è cambiare in continuazione la postura che mantieni durante la tua attività lavorativa o meno, ok? Perché questa cosa? Torniamo un attimino indietro ai cacciatori raccoglitori, ok? Perché noi siamo discendenti dell'uomo delle caverne, l'uomo delle caverne non lavorava in ufficio, che noi sappiamo almeno, e non faceva un'attività sedentaria, ok? Almeno i cacciatori raccoglitori dovevano camminare per chilometri e chilometri al giorno, dovevano probabilmente arrampicarsi e quindi avere questa capacità di movimento molto alta che noi ovviamente abbiamo perso, ma ci mancherebbe, viviamo in un pianeta totalmente diverso, in un mondo diverso, quindi non è che possiamo ambire a quello, però l'idea è che la nostra biologia, il nostro corpo rimane comunque sempre uguale, le nostre articolazioni hanno bisogno di sperimentare, hanno bisogno di muoversi, non hanno bisogno di stare ferme, ok? Infatti la maggior parte delle persone che soffre di acciacchi, problemi, problemini, rigidità, tensioni muscolari, migliora con il movimento, ok? Questa è la prova inconfutabile che semplicemente facendo dell'attività fisica del movimento miglioriamo il nostro benessere. Di conseguenza il fatto di pensare che mantenendo una postura dritta miglioro il mio problema, miglioro la mia postura è un errore da evitare, ma quindi mi chiederai cosa devo fare per migliorare la mia postura? E adesso andiamo nel dunque. La postura non è solo una questione fisica, ma è soprattutto una questione mentale, quindi cambiare un atteggiamento posturale è come smettere di fumare. Chi fuma sa benissimo che è abbastanza difficile da fare o chi conosce un fumatore sa che è una questione abbastanza difficile perché richiede un impegno mentale assurdo, ok? Quelle foto che vedi su Instagram, quando c'è una persona su Instagram o quello che è, che c'è una persona con una postura così e nella foto dopo ha la postura dritta, non è che ha fatto un qualche cura miracolosa, qualche esercizio fantastico che gli ha permesso di avere questo cambiamento drastico. Questa persona semplicemente per un momento è stata gobba e nell'altro momento è stata dritta. E scommetto che anche tu adesso se ti metti davanti allo specchio e provi a ingobbirti e provi a raddrizzarti riesci ad avere una postura dritta. Infatti togliendo poche problematiche morfologiche per cui la schiena effettivamente non si raddrizza perché le vertebre hanno un determinato orientamento, perché le vertebre hanno un determinato orientamento, perché effettivamente c'è un problema di nascita o acquisito per una frattura o qualsiasi patologia che non permette di raddrizzare la postura. Togliendo questi casi, tutto il resto delle persone, tutto il resto del mondo, nel momento in cui gli chiedi stai su dritto, stanno su dritti. Di conseguenza non devono ambire al fatto di stare dritti per migliorare la postura, ma devono migliorarla a 360 gradi. Quindi abbiamo detto che la postura è una questione, la dobbiamo dividerla in due, quindi qua scriviamo postura e la dividiamo in mente e corpo. Abbiamo detto che c'è una grande influenza dal punto di vista mentale, pensa alla postura che hai quando ad esempio sei teso, quando sei tesa, quando devi dare un esame, quando sei in un colloquio importante, quando devi andare a parlare col capo e chiedergli un aumento, quando ti stanno per licenziare, non so, qualsiasi situazione di tensione, di ansia, hai una postura più chiusa, con le spalle più in alto, il fiato più corto o situazione di paura. Al contrario, se sei in spiaggia, bello rilassato o rilassata, sulla sdraio che stai sorseggiando la tua bevanda preferita, in quel caso lì hai una postura rilassata, tendenzialmente, salvo che magari puoi essere in spiaggia e avere comunque una postura poco rilassata per mille motivi, però mediamente le due situazioni sono situazioni solo mentali, non è che da un momento all'altro i tuoi muscoli hanno deciso di migliorare la postura. Quindi la mente influenza tantissimo la nostra postura, ok? Il corpo invece cosa fa? Il corpo, prendiamo come corpo, prendiamo muscoli e articolazioni, nel momento in cui la mia abitudine di avere una postura chiusa sempre in avanti me lo fa mantenere per molto a lungo, i miei muscoli anteriori si accorciano e i miei muscoli posteriori, tra virgolette, si allungano, si indeboliscono e quindi mi è difficile poi rimanere in una posizione dritta, proprio perché l'abitudine uno e i muscoli e le articolazioni due fanno fatica a ritornare in una posizione precedente, ok? Quindi che cosa bisogna fare? Bene, dal punto di vista mentale, come ho detto prima, ci vuole un grande impegno, perché ovviamente bisogna proprio impegnarsi mentalmente, devi proprio volerla quella cosa, come smettere di fumare, ma dal punto di vista delle abitudini si può fare una bella cosa, si possono cambiare le abitudini delle attività che faccio, quindi piuttosto che ricercare una postura dritta, che abbiamo detto che è un errore principalmente, si ricerca un cambiamento continuo della postura, quindi sto un po' seduto, un po' in piedi, se ho la possibilità di lavorare in piedi alzo la scrivania e lavoro in piedi, un po' sul lato sinistro, un po' sul lato destro, ok? Come se fossi un uomo moderno cacciatore raccoglitore, diciamola così. Invece dal punto di vista del corpo quello che devo fare è facilitare il lavoro della mente, facilitare, come facilito il lavoro della mente, stretching più rinforzo, stretching, rinforzo, ok? Perché? Perché se io ho della muscolatura anteriore rigida, quindi pettorali, grandorsali, tutta la muscolatura che intraruota e mi chiude in avanti è molto rigida, è molto chiusa e la muscolatura posteriore, trapezzi, i romboidi, tutto il resto che deve invece aprire sono muscoli deboli, per quanto io mi possa impegnare mentalmente farò molta fatica a stare dritto perché sto combattendo le mie stesse resistenze, una parte del mio corpo sta combattendo un'altra parte, quindi devo cercare di facilitare questo lavoro andando ad allungare la muscolatura anteriore, fare degli esercizi di stretching, di apertura e rinforzare la muscolatura posteriore, in questo modo do la possibilità alla mia mente, quando decido di stare dritto mi costa molta meno fatica, ok? E in più devo andare a fare anche degli esercizi di rilassamento, degli esercizi di respirazione che li mettiamo in mezzo qua, facciamo un più respirazione, respirazione, quindi questi tre mi portano a migliorare la postura. Perché ho aggiunto la respirazione? Perché, come ti dicevo prima, per me il miglioramento posturale non è solo una questione estetica, ok? Ci può essere, per qualcuno può essere una cosa importante, ma dal punto di vista, chiamiamolo io da fisioterapista, guardo quello che è la funzione, guardo quello che è il benessere muscolare e articolare della persona, quindi che una persona stia dritta ma poi abbia dolore al trapezzo, se sta 5 minuti seduto gli tira il collo e sente scricchiolare, si sente incriccato, si sente rigida e la spalla non va bene, è inutile stare dritti, cioè avere una bellissima postura ma avere 300.000 doloretti ha poco senso, ok? Quindi per quello che dico che è un errore pensare che semplicemente stando dritti si migliorano i problemi, ok? Probabilmente di solito è anche il contrario, io prima lavoro sulla mia postura, miglioro quello che è il mio benessere muscolare, mi sento meglio, mi sento di avere una postura migliore, mi sento più dritto e poi ovviamente ho meno dolore in questo modo, non al contrario, ok? Quindi quello che dobbiamo andare a fare è fare un lavoro di questo tipo, nel nostro corso completo postura spalle passo dopo passo si lavora a 360 gradi in questo modo, come ti dicevo prima qua sotto trovi le lezioni di prova per andare ad avere altre informazioni in cui vado a sviscerare altri falsi miti sulla postura, altre informazioni su come migliorare la postura, in questo modo potrai avere un'infarinatura generale e su alcuni aspetti anche molte informazioni su come migliorare la postura, in più trovi anche degli esercizi di prova, quindi proprio i primi esercizi da iniziare a fare e le prime routine da seguire. Detto questo se poi ti interessa potrai ovviamente acquistare il corso completo che è fatto da altre lezioni teoriche, da altri consigli da seguire, soprattutto da tante tante settimane di esercizi, ok? Perché ci sono tre protocolli, divisi ogni protocollo in due fasi, ogni fase dura una media di 3-4 settimane, quindi insomma ci sono un bel po' di settimane di lavoro da fare per la tua postura. Quindi detto questo ti ringrazio per l'attenzione, spero che questo video ti sia piaciuto e spero tanto ovviamente che tu possa applicare queste informazioni nella tua vita quotidiana e andare a migliorare la postura. Quindi iscriviti alla prova gratuita e ci vediamo al prossimo video!